Ben ritrovati amici del Centro Meto Italiano. Come già anticipato, la settimana che procede il Natale vedrà ancora un'alternanza tra maltempo e fasi stabili. Tra mercoledì e giovedì è attesa infatti una nuova perturbazione atlantica con neve anche a bassa quota. Nel prossimo weekend però il tempo dovrebbe essere più stabile grazie alla rimonta di un campo di alta pressione tra penisola iberica e mediterraneo occidentale. Questa fase anticiclonica potrebbe accompagnarci fino alla vigilia di Natale mentre a seguire sia il modello GFS che CMWF mostrano il transito di un fronte freddo da nord. Riassumendo la tendenza a grandi linee, tempo stabile per la vigilia e possibile peggioramento tra Natale e Santo Stefano. Temperature sopra la media, specie in quota e in calo probabilmente solo dopo Natale. Ricordando che si tratta ancora di una tendenza vi invitiamo a seguire tutti i prossimi aggiornamenti sul nostro sito o sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.